E' che dire, questi sono sicuramente uno di quei weekend che non si dimenticano facilmente e lo potete intuire anche dalla mia voce, scusate, decisamente bassa però ecco faccio questo video per raggiungere un po' tutti quelli che magari anche non mi seguono su Instagram o per quelli di voi che non siete stati all'evento che abbiamo organizzato appunto alla Games Week e che appunto volete sapere un po' com'è andata intanto inizio ringraziando i Clash per averci aiutato a trovare una piccola casa per qualche ora dove poter condividere la nostra stessa passione ringrazio anche Red Bull Gaming per averci aiutato ad organizzare l'evento e soprattutto per avergli finito le scorte di Red Bull allo stand le avete bevute tutte ringrazio Bungie per averci supportato ma soprattutto ringrazio voi che siete venuti a salutarci vedere così tanta gente riunita intorno alla passione per lo stesso gioco è veramente incredibile raga come vi ho detto ogni volta che si parla di community ogni volta che io cerco di spiegarvi quello che noi stiamo facendo che lo si faccia attraverso un post, un video o una diretta su Twitch il concetto di community si perde subito dopo che è stato detto perché fondamentalmente è solo una parola ma quando la parola si trasforma poi in quello che abbiamo fatto sabato diventa così materiale che è quasi una cosa magica non so se riesco a spiegarmi bene quello che sto cercando di dirvi però vabbè è uguale tutti noi io, Manuel, Luga, Laurent, Dr. Nate, Rewind, Cursed, Leo e Chessplate insomma tutti gli altri ci siamo trovati tutti un po' spiazzati siamo sinceri in questo dal vostro sostegno e per noi e quindi penso di parlare un po' a nome di tutti in questo caso è un onore far parte di questa community questo è il culmine massimo del nostro lavoro secondo me dare alle persone una casa, un luogo, uno spazio chiamatelo come volete per parlare delle loro passioni e noi praticamente fungiamo soltanto da catalizzatore il grande lo fate voi con il vostro supporto costante giornaliero che ci date su tutte le piattaforme dove noi siamo quindi ricapitolando l'evento è andato bene è andato benissimo è andato oltre ogni nostra aspettativa ringrazio ancora tutti quelli che appunto sono venuti anche soltanto per fare un saluto e anche quelli che magari sono venuti ci hanno salutato prima o dopo l'evento perché magari non sono riusciti a rimanere oppure insomma ci hanno trovato tardi grazie, grazie, grazie ancora a tutti di cuore basta però con le smancerie perché Shadowkeep è dietro l'angolo e noi non abbiamo tempo da perdere vi spiego un pochino adesso come saranno i prossimi giorni per chiarezza perché il programma non conoscendo bene i contenuti che ci saranno da affrontare sarà difficile da delineare però ecco io userò più o meno lo stesso metro o metodo usato con Forsaken e naturalmente sono aperto a tutti i consigli che vorrete darmi qui sotto nei commenti come ogni nuovo contenuto che si rispetti io soprattutto i primi giorni sarò più attivo su Twitch che qui su YouTube perché dovremo passare molto tempo a giocare piuttosto che a registrare e quindi vi esorto a seguirmi lì trovate il link come sempre nella descrizione qui sotto perché tutte le cose le faremo naturalmente prima in diretta che è qui su YouTube altro aspetto saranno gli orari da martedì aspettatevi orari sballati da quelli ai quali vi ho abituato durante i mesi precedenti almeno fino al ride che sarà sabato saremo molto occupati a livellare quindi mi troverete molto ma molto spesso online naturalmente per sapere quando e come o attivate le notifiche su Twitch o vi consiglio di seguirmi su Instagram dove vi dico sempre cosa sta succedendo e come sta procedendo quindi live o fuori orario e Instagram come supporto qui su YouTube invece come abbiamo fatto con Forsaken io vorrei mettere il let's play della campagna per dare a voi la possibilità poi di giudicare il contenuto di Bungie se volete capire di cosa parla Shadowkeep se ne vale l'acquisto oppure no insomma per questo naturalmente come ho detto prima usate i commenti qui sotto e fatemi sapere se lo volete o meno il let's play della campagna io cercherò in quanto mi sarà possibile di integrare prima del ride magari un video sul livellamento appena sappiamo bene come funzionano i nuovi potenti e come possiamo organizzare la nostra nuova strada verso i nuovi cap tutto questo culminerà nel ride finire il ride nelle 24 ore sarà il nostro obiettivo ma sappiamo benissimo quanto sarà difficile probabilmente più difficile di Galran dove poi non siamo riusciti neanche a finire quella volta però noi ci proveremo perché è una sfida che ci piace e che avremo piacere a fare insieme a voi per questo l'appuntamento sarà sabato alle 19 dove le porte del giardino nero si apriranno e noi potremo capire contro chi o contro cosa combatteremo da lì in poi come sempre accade qui su YouTube metterò prima il gameplay dei vari step e in secondo momento soltanto la guida il primo naturalmente per dare la possibilità a chi lo vuole finire nel minor tempo possibile di capire come funziona la guida invece per quelli che invece avranno difficoltà a farla in seguito e quindi farò una cosa un po' più ad hoc per tutti voi che lo farete poi con calma noi faremo del nostro meglio per cercare di portarlo a casa la cosa bella come anche l'altra volta sarà farlo insieme a voi e come la volta scorsa che ci avete dato una spinta fantastica anche se poi non siamo riusciti a chiuderlo quindi ancora una volta vi esorto a scrivermi nei commenti suggerimenti per i primi giorni ma sappiate che più o meno il programma sarà questo tante live fino a ride let's play su YouTube e se dovesse riuscire a farle anche qualche piccolo video informativo sul livellamento o su altre cose che scopriremo durante i primi giorni appunto di Shadowkeep io vi ringrazio di nuovo per tutto l'affetto che mi avete dato in questi giorni personalmente mi avete dato una forza incredibile per continuare a lavorare per supportare la community che ruota intorno al canale ora sotto con Shadowkeep faccio un enorme in bocca al lupo a chi deciderà come noi di tentare i ride al day one e buon divertimento a tutti gli altri noi ci vediamo alla prossima ciao ciao